Il piacere di conoscere la Scuola Normale Superiore, è membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei, ha avuto nel 1979 il premio Somaini della Società Italiana di Fisica di cui è da tempo presidente ed ha ricevuto nel 1994 la laurea honoris causa dalla Purdue University. Una sintesi estremamente breve per una personalità come quella del professor Bassani che si commenta da sé. Poi passo al secondo speaker e commentatore, non saprei come definire queste personalità, il William Shea, canadese, vedo qui in questo schema, ha insegnato per 25 anni alla McGill University a Montreal nel 1995 e è stato chiamato all'Università di Strasburgo e dal 2003 alla cattedra galileiana dell'Università di Padova. è stato direttore degli studi alla Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales a Parigi, è ricercatore all'Institut for Advanced Studies di Berlino, per fortuna non è scritto in tedesco, è professore in visita in varie scuole a Roma, a San Paolo del Brasile, Bangalore in India, è Shea inoltre scritto e collaborato alla stesura e curato l'edizione di ben 25 libri, tra cui la rivoluzione intellettuale di Galileo, Galileo a Roma, ascesa e caduta di un genio scomodo, e Galileo e Torricelli e Pascal, il trionfo del metodo sperimentale ed il tramonto dell'horror vacui. Ed infine il terzo intervento, Stefano Nannipieri, laureato in Storia dell'Arte, comincia nella seconda metà degli anni Ottanta a lavorare in produzioni broadcast a Rai e Mediaset, dall'88 e socio della Società di Produzione Alfea Cinematografica di Pisa, dove è impegnato sia in attività di regia televisiva, documentari e produzioni multimediali, con particolare attenzione al patrimonio artistico e culturale, sia come docente anche nella formazione professionale, questa è la sua altra attività. Tra le ultime produzioni, oltre al laboratorio di Galileo, a diretto Antonio Pacinotti, è il secolo dell'elettricità, un documentario sullo scienziato e sul suo tempo, poi Pisa e il Mediterraneo, un documentario sulla omonima mostra, ed ancora Ordine Operativo numero 75, un documentario sul bombardamento aereo di Pisa del 31 agosto del 43. ruota questa azione intorno a questa zona e questa tappa del viaggio Telecom, che spero sia gradita a tutti i presenti. Quindi chiedo di procedere al professor Bassani. Signore e signori, due parole soltanto per ricordare come è nata la Società Italiana di Fisica. Tutti dovremmo sapere, ma forse non tutti siamo informati. È bello dirlo qui a Pisa perché la Società Italiana di Fisica è stata fondata nel 1897 come risultato di una riunione che hanno avuto vari fisici italiani i quali scrivevano sul Nuovo Cimento. Il Nuovo Cimento era una rivista fondata qui a Pisa da Carlo Matteucci e Raffaele Piria nel 1855, al tempo ancora del Gran Ducato di Toscana. E dopo di allora aveva ospitato fino alla fine dell'Ottocento, poi continuata anche dopo, ma nel 1897 era accreditata come una delle migliori riviste di fisica d'Europa. E era un po' la palestra dove i fisici italiani si incontravano, scrivevano e in qualche modo avevano un terreno comune. Così nel 1897 si sono riuniti e hanno deciso di fondare la società di fisica purché un numero di fisici abbastanza consistente aderisse. E in un numero successivo vengono indicati i nomi di tutti coloro che avevano aderito, erano allora più di 100, che era un numero piuttosto notevole, e così è nata la società di fisica. E da allora la società di fisica ogni anno organizza un congresso nazionale, dal 1953 in poi organizza delle scuole chiamate Enrico Fermi a Varenna sul lago di Como, in una bellissima villa, e sono scuole di 15 giorni, ognuna su un argomento specifico. In media se ne organizzano tre all'anno. L'anno scorso è stato, nel 2005, è stato l'anno mondiale della fisica, perché era a un secolo da quello che viene chiamato l'anno mirabile con i risultati fondamentali di Einstein. E in quell'occasione ci sono state molte iniziative, e fra queste iniziative la Società Italiana di Fisica ha pensato di raccogliere in un cofanetto un certo numero di filmati, alcuni prodotti dalla società La Limonaia, qui di Pisa, che gentilmente li ha messi a disposizione, e sono filmati uno su Fermi, uno su Pacinotti e uno su Ponte Corvo. Poi questo filmato che vedremo adesso, e poi altri filmati riguardanti esperimenti classici eseguiti di nuovo con tecniche moderne e quindi con precisione maggiore. Per esempio c'è una misura della velocità della luce che si può fare in un tavolo come questo, con ruote dentate, usando il raggio laser anziché luce normale, come tradizionalmente aveva usato Fizzo. Oppure un altro esperimento è quello della bilancia di Cavendish per misurare la forza di gravitazione tra le masse, per cui si usavano delle enormi masse. Adesso si può fare con delle palline modeste, appunto sempre usando i raggi laser per misurare i spostamenti anche piccoli della bilancia di torsione. Ecco, questo per dire che speriamo che tra non molto, tra un mese circa, questi cofanetti con questi DVD, con questi filmati possano essere distribuiti alle scuole e un po' anche a voi che siete qui ce ne sarà, ne avremo un po' a disposizione per tutti perché possiamo metterli a disposizione gratuitamente e credo che siano interessanti da vedere. Adesso, quest'oggi, vedremo il filmato che è stato eseguito qui dall'Alfea Cinematografica e curato da Vergara Caffarelli sugli esperimenti di Galileo. E questi esperimenti sono interessanti anche perché io ero convinto e molti nel mondo anglosassone sono ancora convinti che in realtà Galileo gli esperimenti non li aveva fatti ma li aveva soltanto pensati o discussi e viceversa credo che Vergara Caffarelli da quanto ho capito io abbia dimostrato ripetendoli che in realtà Galileo gli esperimenti li aveva fatti veramente. Allora, spero che il filmato sia interessante ringrazio tutti e buonasera. Grazie mille. Chiedo scusa perché pensavo di parlare dopo il film io ho avuto un privilegio di vedere ma vedo che sono qui per fare un po' di pubblicità meritata perché questo film che vedrete stasera è una realizzazione del tutto eccezionale Galileo è il fondatore del metodo sperimentale in un senso forte ed è nel mondo francese che si pensa che queste esperienze non sono state fatte nel mondo anglosassone posso assicurarla che la situazione è meno drammatica perché sono più informati perché sono più informati essendo stato professore per sette anni in Francia ho dovuto imparare che il fondatore di tutto è Cartesio Galileo è straordinario per la sua personalità per le cose eccezionali che ha fatto cominciando qui a Pisa è eccezionale anche il professore per Gara Caffarelli per aver fatto è una cosa che io avrei dovuto fare molto tempo fa e che io non l'ho fatto sto arrivando a un'età dove capisco meglio quello che è avvenuto ma quando avevo 40 anni avevo letto i testi di Galileo scritti dopo la condanna quando aveva 75 anni vedo che alcuni studenti qui mi capiranno a 40 anni uno legge i testi di persone che hanno 75 anni senza grande speranza di novità ed è stato veramente per me un errore capitale perché la cosa straordinaria che Galileo ha 75 anni ha ripreso i suoi lavori anteriori su un modello archimedeo e si è fatto una autocritica ed è arrivata a una comprensione di leggi fondamentali di una macchina che noi conosciamo come la macchina di Atwood che è stata fatta 100 anni dopo e nel quale avete tutto anche magari al liceo visto questa macchina è stata ideata da Galileo e nessuno fino al lavoro del professore Vergara Caffarelli si è stata attribuita a Galileo dunque in questo già il film è straordinario il film è anche molto bello perché le esperienze di Galileo sono state fatte talvolta ma mai con la precisione e la cura che ho avuto il privilegio di vedere questo pomeriggio nella mostra che se non avete visto ancora la mostra dovete precipitarvi domani mattina a vederla dal punto di vista didattico questo film è anche eccezionale è molto difficile far capire un aspetto tecnico con grande senso galileano direi il professore e i suoi colleghi sono riusciti a fare una cosa che sarà spero tradotta in tante lingue incluso il francese ovviamente è distribuita non solo qui come lei gentilmente ci ha detto spero che lei avrà l'intenzione di distribuirlo a livello internazionale vi ringrazio buonasera a tutti ringrazio innanzitutto tutte le persone presenti per essere venute e non voglio parlare entrare nei dettagli del film perché il mio mestiere è raccontare con le immagini quindi preferisco che che siano le immagini a parlare per me molto semplicemente voglio fare dei ringraziamenti a chi mi ha dato la possibilità di realizzare questo film innanzitutto quindi ringraziare la società italiana di fisica nella persona del professor Bassani che hanno voluto questo la realizzazione di questo film ringraziare poi il vero motore del progetto che è il professor Vergara Caffarelli che ha messo tutta la sua passione tutta la sua competenza e tutto il suo amore anche direi per tutte queste macchine e marchi ingegni che ha costruito con le sue stesse mani molti di questi e che ha trasmesso anche a tutti noi che in qualche modo eravamo anche ignoranti nella materia un amore che ha trasmesso anche a noi nell'osservare a volte anche un po' meravigliati il funzionamento di queste macchine strane voglio ringraziare anche la fondazione Galileo Galilei che ha dato un contributo fondamentale sia all'allestimento del set in cui sono state riprese le macchine sia alla consulenza del dottor Claudio Luperini che ha partecipato attivamente alla ripresa consentitemi poi di fare un ringraziamento a tutta l'equipe di persone che ha collaborato con me alla realizzazione del film in particolare a Andrina Di Brino che ha si è occupato della produzione ma non solo ha dato anche un apporto creativo al film Michele Andreoli che ha realizzato le animazioni e i testi delle animazioni e Davide Cambi che ha montato e ha composto la musica originale del film Niente io voglio lasciarvi alla visione del film e spero che abbia raggiunto lo scopo di far capire non solo di far capire il funzionamento di queste macchine ma anche riesca a trasmettere un pochino di questa meraviglia che in qualche modo abbiamo provato noi nell'osservarla e buona visione a tutti